Piceno Promozione, azienda speciale per l'internazionalizzazione della Camera di Commercio di Ascoli Piceno, in collaborazione con la Regione Marche, ha organizzato presso il Centro Polifunzionale Forum di San Benedetto la Country Presentation Monzambico, un'iniziativa di presentazione del paese africano rivolta alle imprese del territorio. Ce ne parlano Antonio Canzian, vicepresidente della Regione Marche, e Gino Sabatini, presidente di Piceno Promozione. Il programma 2013 della internazionalizzazione della Regione Marche ha posto come obiettivo quello di iniziare un percorso di interlocuzione con paesi subsariani. Oggi abbiamo in Monzambico, nell'ambito di questo progetto che ha la definizione di Country Presentation, appunto un'occasione per iniziare questo percorso comune. Abbiamo il piacere di avere Sua Eccellenza l'ambasciatrice del Monzambico, ci sono parecchi imprenditori che si sono iscritti per conoscere questo paese e teniamo conto che questo paese oggi ha il 134esimo posto come scambi commerciali con la Regione Marche. Allora non possiamo che aumentare le esportazioni verso il Monzambico, come dobbiamo incominciare a pensare alle materie prime che il Monzambico ha. L'importanza dell'incontro per le aziende marchigiane si comprende appieno, considerando che i rapporti tra Monzambico e Italia si sono via via intensificati in questi ultimi anni, culminando con la presentazione del paese alla BIT in maniera congiunta con il Sudafrica attraverso i rispettivi consolati. Le relazioni tra Italia e Monzambico stanno crescendo, crescendo molto. Il Monzambico è un paese che sta crescendo 7% all'anno negli ultimi 10 anni, ha una stabilità politica, l'Italia ha grandi potenzialità, grandi know-how. Il Monzambico vuole veramente condividere questa esperienza di potenzialità che abbiamo. Questa organizzazione, Esport, di Piceno ha dato un'opportunità straordinaria, credo unica nel suo genere, perché ha permesso veramente agli interlocutori come noi di entrare in contatto con gli imprenditori. La risposta è stata fin oltre le aspettative.